Ti batterò come ho battuto Jaden Yuki nell'ultimo episodio di Yu-Gi-Oh! GX! Ma quel duello non ha avuto una conclusione! Questo perché quando ho vinto, Jaden ha iniziato a piangere come un neonato. Era così imbarazzante che il network ha rifiutato di mostrarlo. Ecco perché non lavoro coi dilettanti. Ok, prima di tutto non è andata assolutamente così. Lasciate che vi racconti la mia versione dei fatti. Insomma, stavamo duellando e stavo per prenderlo a calci nel culo con questa mossa che stavo per fare. E poi, fuori da nulla, ho sentito questo odore di cipolle e mi ha fatto un po' piangere. Insomma, certo, stavo piangendo, ma non perché stavo per perdere! Io non perdo mai! Io sono il migliore! Io, sapete, io non devo provare nulla. Me ne vado a casa.